Ritornano regolari i collegamenti per i pendolari siciliani sulla tratta ferroviaria Messina a Palermo. Dopo oltre due mesi di disagi è stata riaperta la tratta ferroviaria chiusa tra Gioiosa Marea e Patti. La principale dorsale ferroviaria dell'isola ha subito un'interruzione per la messa in sicurezza della Galleria Montagna Reale. Lavori che hanno costretto le ferrovie a dover intervenire a linea chiusa per poter terminare le dedicate opere che si attendevano da tempo. E' stato scelto proprio il periodo estivo per evitare in particolare complicazione agli studenti della provincia che utilizzano il treno per raggiungere le scuole. Per due mesi è stata sospesa la circolazione ferroviaria con conseguenti variazioni al programma di viaggio dei treni che ha previsto anche cancellazioni di corse e sostituzioni con bus. Disaggi per i pendolari e in particolare per i turisti che hanno scelto la Sicilia per le loro vacanze. Raggiungere Palermo o Cefalù da Messino viceversa in questi due mesi è stato davvero un problema. I treni si fermavano alla stazione di Patti o di Giosa Marea e gli spostamenti seguivano in bus con un aumento di tempi di percorrenza e naturalmente disagi ulteriori per chi viaggiava con bagaglie al seguito. Nelle scorse ore, come detto, il tratto interessato dei lavori è stato riaperto. I lavori di messa in sicurezza hanno rispettato i tempi programmati e sono stati ultimati con appena due giornate di ritardo. La circolazione ferroviaria torna quindi alla normalità anche se lungo la tratta Patti-Castelbuono resta ancora un unico binario. Da anni i pendolari chiedono il doppio binario per far fare un salto di qualità al trasporto ferroviario ma ad oggi i vari progetti di modernizzazione della tratta sono rimasti fermi nei cassetti e il doppio binario resta un'utopia a discapito della crescita economica e turistica del territorio.